Messaggio di Gesù al leggente Edson Glauber il 17 febbraio 2020 Pace al tuo cuore, figlio mio! I figli delle tenebre sono più intelligenti dei figli della luce. Agiscono più velocemente, mentre i figli della luce dormono come se nulla fosse accaduto, perché non usano e non rivendicano la saggezza che viene da Dio. Non sanno discernere le cose, sono ciechi, muti e sordi a causa delle loro debolezze e dei loro peccati. Prega figlio mio, prega per la guarigione spirituale delle anime e chiedi la guarigione e la liberazione di cui hanno bisogno. Nelle mie sante piaghe e attraverso il mio prezioso sangue troveranno la cura e il sollevo per i loro dolori. La loro malattia e la loro affiliazione sono qui davanti a te e a tutti coloro che invocano il mio nome, per essere il tuo salvatore e di tutta l'umanità. Abbi fiducia e credi. Io tutto posso. Io ti benedico.